13 maggio madonna di fatima lei vuole che reciti questa preghiera per ricevere una grazia la madonna di fatima apparve a tre pastorelli lucia francesco e gecinta a fatima in portogallo esattamente il 13 maggio 1917 questa fu la data della sua prima apparizione in questo giorno così importante dobbiamo assolutamente recitare una preghiera che ci consacra al suo cuore immacolato e che ci permette di ricevere la grazia o il miracolo attraverso la sua divina intercessione dopo la preghiera si recitano anche sette ave maria una preghiera semplice e breve ma molto amata dalla madre di gesù durante il giorno recitatela più volte mattino pomeriggio e sera anche insieme ad altre persone nel nome del padre del figlio dello spirito santo amen o vergine santa madre di gesù e madre nostra che sei apparsa a fatima ai tre pastorelli per arrecare al mondo un messaggio di pace di salvezza io mi impegno ad accogliere questo tuo messaggio mi consacro oggi al tuo cuore immacolato per appartenere così più perfettamente a gesù aiutami a vivere fedelmente la mia consacrazione con una vita tutta spesa nell'amore di dio dei fratelli sull'esempio della tua vita in particolare ti offro le preghiere le azioni i sacrifici della giornata in riparazione dei peccati miei e degli altri con l'impegno di compiere il mio dovere quotidiano secondo la volontà del signore ti prometto di recitare ogni giorno il santo rosario contemplando i misteri della vita di gesù intrecciati ai misteri della tua vita voglio vivere sempre davvero figlio tuo e cooperare perché tutti ti conoscano e amino come madre di gesù vero dio e unico nostro salvatore amen recitiamo sette ave maria ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte il signore è con te ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte della nostra morte amen cuore immacolato di maria prega per noi nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti